Un'iniziativa sociale che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per i terremotati. Quindi invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa, domenica mattina alle 9.30 e poi di proseguire sempre qui a Gela con tantissime iniziative che coinvolgeranno il Palio dell'Alemanna. La riunione sarà fatta sul corso, sul sagrato della Chiesa Madre. Abbiamo avuto l'autorizzazione anche della Padre Labbiso che c'è cosa. Poi sarà uno a uno, le macchine partiranno e faranno questo breve percorso che va su per giù dalla Benetton a Inboe o dal Randazzo dove ci saranno dei pressociti e si tratterà di percorrere quel tragitto con i secondi che sono stabiliti. Da lì ci sarà il percorso via Istria, lungomare e si arriva a Macitella dove c'è un altro pressocito che darà il tempo pure dalla partenza che deve impiegare un certo tempo. In questo tragitto ti puoi fermare, nel primo tragitto lo devi fare a velocità costante e devi indovinare i secondi che deve fare. Arrivati a Macitella ci sarà una prova di abilità, stupida, ma tanto per essere impegnati. Da lì ripercorreremo il lungomare, saliremo dal museo dove ci sarà un'altra postazione, un altro giochino e arriveremo di nuovo in piazza dove ci sarà un'altra gara con dei birilli. Speriamo di poterla fare perché per la strettezza dello spazio concesso crediamo che non si possa fare. Però dove si rifaranno i due giochini abbiamo avuto la collaborazione del polo angologico, delle ragazze del polo angologico che si sono prestate a fare questa manifestazione, hanno voluto collaborare con questa nostra iniziativa e andiamo sul sociale.